...in giro, ok? Ed è una storia che va bene per... non solo per i musicisti, ma per tutti quelli che per lavorare fanno dei giri, cioè stanno in giro tanto, dal camionista all'agente di commercio, che ne so, il venditore. Quello che la moglie l'ha mandato fuori di casa, per motivi imprecisati. Oppure esatto, questa è bella. Se ti hanno buttato fuori di casa, sei un camionista. È perfetto! È tremenda questa situazione. Ok, denunci. Sufretto a sé, ma studano con gilio. Sufretto a sé, ma studano con gilio. La roba è abbandonato lì La vita è oggi, venga a turismo La vita è oggi, venga a turismo È essere una domanda Questo forno è andata non si수를 parce ma diciamo ed è bambino D'amia e ben inviare Il calcio è Guess ovvero il bacacolo Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti